Non bastava ucciderlo a calci e pugni solo perché tentava di difendere un amico. Non bastava che a farlo fossero odiatori di professione o forse, e peggio ancora, tristi picchiatori poco consapevoli del valore della vita, almeno di quell'altrui. Il giovane Willy Monteiro Duarte, morto a 21 anni, evidentemente ora deve sparire anche dai muri della memoria. Ma è proprio sui muri che in Italia tanti artisti di strada gli hanno reso omaggio con una loro opera, a Colleferro, in provincia di Roma, il paese in cui Willy è stato ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, e in tante altre città, come Pescara, per esempio. Poi arrivano i vandali, o gli imbecilli, o tutte e due le cose, ed ecco che il murales che raffigurava Willy come un sorridente e generoso superman, diventa un'altra cosa perché qualcuno non è riuscito a leggere il suo sguardo pulito e mostra, lui sì, di avere dei problemi. Il momento dell'azione vandalica non è stato scelto a caso. I presunti assassini di Willy, morto per il lapestaggio di quattro ragazzi, saranno alla sbarra il 10 giugno. Sarà la prima udienza davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Frosinone per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi e i loro amici Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, tutti accusati di omicidio volontario. Il processo si svolgerà a porte chiuse. Il volto di Willy invece era qui, fuori, luminoso, all'aperto e non basterà certo un po' di vernice bianca per farlo sparire dalla memoria e rinchiuderlo negli angusti spazi del teppismo da strapazzo.